Ciao a tutti, mi chiamo Dante Futia e mi sono laureato in Ingegneria Matematica nel 2018. Dopo la laurea ho iniziato a lavorare come Pricing Analyst presso Intesa San Paolo. Qui mi occupo soprattutto di analisi dati in supporto alle decisioni riguardanti i prezzi dei prodotti bancari. Durante il mio percorso di studi ho acquisito una prima conoscenza di software per l'analisi dei dati che oggi utilizzo durante la mia attività lavorativa. Però credo che l'aspetto più importante che mi porto dietro dal mio percorso di studi sia aver acquisito quegli strumenti, quelle basi che oggi mi consentono di avere una disponibilità ad apprendere continua, di aggiornarmi e di migliorare il mio lavoro, acquistando nuove conoscenze riguardo a metodologie e software. Perciò vi consiglio vivamente di andare a studiare Ingegneria Matematica perché avrete la possibilità di acquisire degli strumenti matematici molto avanzati che oggi sono alla base dello sviluppo in moltissimi ambiti applicativi che passano dall'epidemiologia all'intelligenza artificiale alla finanza. E inoltre se mai vi andasse di ritornare a scuola avrò a disposizione un titolo che vi abilita all'insegnamento. Ciao e in bocca al lupo! Grazie! 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 Grazie!